La zona omogenea del Pinerolese è una zona che comprende 45 comuni e circa 130.000 abitanti. È una zona che si compone sia di una parte montana sia di una parte di pianura, che comprende le due valli di Chisone Germanasca e la Val Pellice, e tutta l'area pedemontana e del Pinerolese a arrivare fino ad Airasca. Quindi parte dal confine con la Francia e arriva fino alla prima cintura torinese. Sicuramente gli effetti del cambiamento del clima si sono sentiti in questi anni sul nostro territorio, si sono sentiti sia sul territorio montano sia sul territorio di pianura. Abbiamo avuto l'esempio l'anno scorso delle forti piogge, le intense piogge, un certo spesso anomale che hanno colpito la nostra zona con l'alluvione del novembre 2016, con ingenti danni alle popolazioni e al territorio. Abbiamo visto anche come quest'anno le grandi siccità di questa seconda estate calda che ha portato nel nostro territorio notevoli problemi, ha poi portato a tutta una serie di incendi che hanno devastato la parte pedemontana e la parte montana del nostro territorio. Sicuramente questo ci deve far riflettere, ci deve fin da subito portare a partire per prendere le contromisure per gli effetti del clima.